Ieri mattina con la delegazione, composta dai membri del comitato, consiglieri dell'amministrazione di Lucera e persone comuni, si è recato al Consiglio regionale e si è avuto la possibilità di incontrare l'assessore all'area della sanità a Torini, tuttora a Torini, che rappresenta anche l'ingegnere Manfrini e alcuni consiglieri regionali eletti in Capitanata. Con la Torini gli si è fatto presente la delibera comunale del Consiglio comunale dell'altra sera che si è svolta al Palazzo di Tutelo Sport, nella quale si evidenzia l'importanza di alcune strutture complesse per l'ospedale e l'astaria, quali sono chirurgia, medicina, cardiologia e anche la direzione generale. Inoltre gli si è fatto presente la delibera dell'Astra di Benevento, la quale ritiene l'importanza strategica per l'ospedale Lucera per l'Inter nel comune di San Bartolomeo in Caldo. Torini non era a conoscenza di questa delibera dell'Astra di Benevento e ti è rimasto un po' sorpreso. Inoltre i medici presenti, il dottor Benvenuti, il dottor Trigeno e il dottor Lembo, hanno fatto presente all'assessore a Torini che i numeri l'asteria celiaca è proprio in un determinato modo di efficienza ed efficacia. Per questo gli si chiede perché indirizzare i tagli specificatamente sulla nostra struttura. A Torini non ha risposto a questa domanda, si è cercato un pochettino di tergiversare sottolineando la presenza di tagli che l'ospedalizzazione dell'Astra di Foggia è la più elevata, però a quanto pare forse non dipende esclusivamente dall'ospedale dell'asteria questa negatività di dati presenti. Inoltre con Manfrini si è discusso della proposta presentata dall'assessore Bernardi e ci si è proposto di incontrarsi nuovamente sia con lui e soprattutto con l'assessore che ha lasciato le porte aperte. Loro praticamente non parlano di chiusura dell'ospedale dell'asteria, questo dall'altro ci rassicura, però dall'altro lato non vi è una proposta seria da parte della regione, ancora non si intravede nulla. Quando girano queste bozze, come possono essere definiti, come è il caso di quella che c'è stata girata dall'ingegner Manfrini, si rimane un poco perplessi e ci si preoccupa, per questo cerchiamo il più possibile di collaborare insieme. L'impegno del Comitato è quello di continuare a spronare le istituzioni sia locali che regionali sul caso l'asteria, cercare insieme di avere una buona proposta in modo da rendere efficiente l'asteria e renderlo valido, non solo per evitare la chiusura e la soppressione di questi tagli, ma anche per proteggerlo, per mettere in parte eventuali tagli futuri che la regione potrebbe essere costretta a porre in via di vincoli nazionali soprattutto. Quindi il nostro impegno è questo, ringraziamo soprattutto le persone che sono venute insieme a noi a Bari e speriamo che ci seguano sempre nell'ultimo inizio delle Camerettere in Porto. Lunedì pomeriggio alle 19.30 circa avremo un incontro con il Comitato a quale invitiamo anche tutti i sindaci di Lucera e dell'Appennino soprattutto, in particolar modo per ringraziare la presenza del Comune di Monturino Donato Totoli, il quale ha fatto presente all'assessore e al direttore generale l'importanza dell'ospedale dell'asteria per i Comuni dell'Appennino, questo è stato veramente molto, è stata di miniatura per importanza la presenza di un sindaco dell'Appennino e quindi insieme a loro putteremo giù una proposta e valutare quali saranno gli ulteriori sviluppi della situazione dell'ospedale.